Pre-Raffaelliti, amore e desiderio a Palazzo Reale a Milano. Avete presente la frase successo in 48? Ecco, allora dovete davvero conoscere i pre-Raffaelliti. Nel 1848 in Europa e soprattutto in Gran Bretagna dove appunto origine questo movimento artistico, succede davvero un po' di tutto fra rivoluzioni politiche e sociali, insomma cambia il mondo, ma cambia anche l'arte, cambia il lavoro, cambia il ruolo e la figura della donna e arrivano loro, un gruppo di studiosi d'arte e di ragazzi che decidono di cambiare anche loro il loro mondo, nel loro piccolo insomma partendo ovviamente dall'arte, ma si ritrovano un po' incastrati fra il loro contemporaneo che è un'Inghilterra vittoriana che quindi è bloccata da rigidissime regole di comportamento, insomma di bonton, lo scandalo è sempre in agguato e questa loro voglia invece di moderno, di diritti, di impegno sociale, guardando però, e questo l'incasina ancora di più, guardando all'arte del passato. I pre-Raffaelliti sono i primi artisti che partono dall'arte non contemporanea per andare avanti, ma dall'arte del passato e attenzione, già nel nome dichiarano quale tipo di arte, quella fino a Raffaello, ma prima di Raffaello, per loro Raffaello è un artista già troppo moderno. Questo gruppo di studenti d'arte si riunisce dichiarando appunto già nel nome quali sono le loro intenzioni. Pre-Raffaelliti si firmeranno anche per un certo periodo PRB, però perché pre-Raffaello? Perché prima di Raffaello per loro è l'arte da tenere davvero in considerazione. Dante Gabler Lossetti, William Holman Hunt, John Everett Millet e Gabriele Lossetti, il nome Dante se lo sceglie da solo, proprio per dichiarare fin da subito le sue intenzioni. Insomma, per lui il sommo poeta andava citato addirittura all'anagrafe. Per i pre-Raffaelliti trovarsi davanti a un caffè, insomma fare quattro chiacchiere con libri ideali, significa davvero liberare la pittura inglese da tutto quel vecchiume che secondo loro l'andava imprigionando e la condizionava. I pre-Raffaelliti considerano il disegno una cosa fondamentale. Basti guardare questo bozzetto, insomma questo disegno di Millet di Cristo in casa dei genitori, che ci presenta una scena biblica sicuramente, quindi c'è il recupero delle cose classiche, anche appunto delle scene bibliche, ma vista in chiave quasi, io osa ridire, quasi fumettistica, è quasi una narrazione a fumetto, un disegno molto semplice però, che di semplice in realtà non ha nulla, se ci fate caso, ha moltissimi particolari. Ecco questa è un'altra caratteristica dei pre-Raffaelliti, badare al dettaglio, moltissimi particolari minuziosi, del resto sono artisti che nascono con la fotografia e quindi anche nelle loro opere tendono a riportare tutto quello che già la fotografia riprenda normalmente e quindi non possono evitarlo anche loro. E per esempio appunto nel Cristo in casa dei genitori ci presentano però la visione moderna. Per la prima volta Gesù, bambino, ha addirittura i capelli lunghi, è un bambino che lavora perché la famiglia di Gesù è una famiglia di normali lavoratori e quindi addirittura si taglia, Gesù fa vedere la mano tagliata perché stava aiutando suo padre in falegnameria e questa mano tagliata probabilmente è anche l'anticipo insomma di quello che verrà, se non hanno poi le ferite che patirà nel suo martirio. Però ricordiamo anche che Millet è un po' il bambino prodigio di questo gruppo, del resto a 12 anni lui disegnava così, cioè guardate i lottatori, anche perché con Millet abbiamo per la prima volta un bambino di 12 anni che viene ammesso all'Accademia di Belle Arti di Niltè di Londra. Guardando le opere dei pre-Raffaelliti ogni tanto abbiamo quasi uno scompenso temporale perché guardiamo delle opere che sicuramente sono moderne per le impostazioni, insomma per la posa delle figure, ma per colori e tanti rimandi, effettivamente la domanda che ci viene da fare è quasi ma quando è che è stata fatta quest'opera? Basti pensare per esempio alla Madonna dei bravi bambini di Ford Maddox Brown che fa chiaro riferimento a una qualsiasi, ho messo quella di Cimabone, ma qualsiasi maestà in trono del gotico e ne riprende proprio la forma anche a cuspide e il fondo oro nella cornice. Ricordatevi guardare sempre le cornici delle opere dei pre-Raffaelliti perché spesso nascondono qualche piccolo messaggio, una frase incisa, in questo caso addirittura la forma e poi questi piccoli cerchietti intorno. La scena è classica ma la cornice riprende in pratica tutto il concetto insomma delle maestà in trono con gli angeli che cantano, ma come vengono realizzati questi piccoli angioletti da Maddox Brown? Ho messo l'ingrandimento proprio perché secondo me meritava, sono dei cerchietti con un bozzetto, sono angioletti che cantano, comunque angioletti in preghiera, esattamente come nelle maestà trecentesche, qua però finiscono nella cornice. All'interno dell'opera invece c'è una scena che è una Madonna, sì, sicuramente, ma forse perché c'è una specie di aureola, sì la figura potrebbe essere una Madonna ma in realtà è una mamma, una brava mamma, quindi la Madonna, addirittura qua il titolo è la Madonna dei bravi bambini che fa il bagnetto al bambino la sera del sabato prima di metterlo a letto, è una tradizione vittoriana e quindi è una scena comunque quotidiana, addirittura sullo sfondo c'è la figlia Lucy dell'artista che viene ritratta mentre dice le sue preghiere e anche Rossetti quando fa le nozze di San Giorgio e della principessa Sabra ci fa quasi vedere il seguito di quello che è la scena classica di San Giorgio uccide il drago, si va bene, e dopo cosa succede? Niente, dopo San Giorgio sposa la principessa, non lo sapevamo, meno male che arriva Rossetti a raccontarcelo e come la sposa? La sposa con passione perché ovviamente questi pittori badano appunto desiderio, amore, ma anche insomma passione carnale non dispiace certo e quindi c'è questo abbraccio molto realistico di fianco al drago morto, fateci caso, sulla destra in basso c'è la faccia, la testa insomma del drago morto ammazzato ma appunto dall'eroe valoroso, dal santo guerriero che è San Giorgio, ma tutta la scena ha i colori, i vestiti, l'ambientazione, l'abbigliamento insomma medievale, sì certo, ma le pose no, le pose assolutamente non sono medievali, i due amanti sono abbracciati, insomma lei è semi sdraiata, insomma si stanno toccando, insomma parecchio, cosa che in un dipinto medievale sicuramente non avremmo mai potuto vedere. Molti dei pittori per Raffaelliti erano anche scrittori e poeti e spesso sceglievano proprio di rappresentare dei brani di letteratura classica come Dante, Chaucer, Shakespeare, comunque spesso erano storie d'amore difficili con finali spesso tragici, insomma molto simili purtroppo per loro alle difficoltà che incontravano nella loro vita quotidiana che era comunque condizionata dall'Inghilterra vittoriana, quindi insomma severe regole sociali dove il ceto, il denaro, la nobiltà tendevano più a complicare i rapporti amorosi che a semplificarli. E quindi vediamo anche che l'amore fra le classi sociali differenti è un soggetto molto spesso rappresentato in quest'opera da Stephens nella proposta dove c'è il marchese di Saluzzo che si dichiara Griselda che è una contadina e anche in questo caso la modella è Elisabeth Sidal che è stata l'amante e poi la moglie di Rossetti. La poveretta non sa che sta iniziando in realtà un lungo calvario più che una proposta d'amore dove verrà sottoposta prove terribili che dovranno garantire proprio la sua pazienza, la dedizione, la fiducia e il suo amore per l'amato. Ne uscirà vincitrice per carità, però insomma considerando l'epoca vittoriana perché a noi la sua storia di donna così sottomessa in realtà piace pochino. Però nella scena appunto si vede il suo amato in calza maglia rossa, quindi l'abbigliamento medievale che le sta facendo davvero la proposta d'amore. Al centro invece vediamo Ophelia, l'opera più famosa di Millet, anche forse l'opera più famosa di tutto questo periodo artistico e anche la morte di Ophelia arriva direttamente dall'Amleto di Shakespeare ed è il capolavoro forse più famoso di Millet. Qui vediamo la figura femminile che è respinta dal suo amato che è Amleto che in più le ammazza anche il padre e lei cade in un torrente e affoga con estreme eleganze per carità. Sembra quasi dormire sospesa, galleggia fra queste acque chiare, i fiori che, attenzione, anche qua sono tutti simbolici. Sia il papavero che stringe in mano, sia tutte le margheritine che le galleggiano intorno. Tra l'altro pare che la Sittal posò realmente vestita da sposa in ammollo, in una vasca da bagno, scaldata da candele, insomma un fuocarello vicino che però a un certo punto si spense e lei prese un gran freddo, un gran freddo che le portò proprio una broncopulmonite che minò poi tutta la sua salute che infatti la porterà a morire anche giovane. Addirittura pare che Millet fu costretto a pagare le spese mediche al padre di lei che in quel momento, non essendo ancora sposata a Rossetti, gravava economicamente ancora sulla famiglia. Perché l'ha messa in ammollo? Perché i riperraffelliti sono ancora prima degli impressionisti che verranno in seguito, sono però attentissimi davvero alla copia dal vero e anche le scene all'aperto, insomma comunque tutto quello che poteva essere guardato e rappresentato poi in pittura doveva essere davvero ambientato così com'era e quindi anche Ophelia morente nel lago va copiata con Elisabeth Siddal che è in ammollo in una vasca da bagno. Invece nell'opera di Ant che è Claudio e Isabella vediamo questo giovane in catene, ricordiamoci la storia, lui è condannato a morte da Angelo che è il vicario del Duca di Vienna che brama in realtà la sua sorella Isabella e il giovane si salverà o comunque si salverebbe solo in cambio della perdita della virtù e anche dell'onore della sorella Isabella che dovrà concedersi appunto al vicario e questa è la rappresentazione di un dilemma morale che ha per protagonista proprio l'opera di Shakespeare misura per misura. Isabella in questo momento, in questa scena ha in realtà già deciso da cosa lo sappiamo? Dai particolare, ricordiamoceli, non sono mai messi a caso per terra sulla sinistra troviamo infatti dei petali di questo fiorellino insomma distrutto in terra il fiore è distrutto, la veste della giovane non è più così bianca, insomma non è più così candida perché? Perché si sta sacrificando, quantomeno sacrificherà il suo onore per salvare il fratello è comunque una vera eroina. I pittori per Raffaelliti scegliono spesso soggetti religiosi però li reinterpretano, addirittura nella mostra questa sezione intitolata Una fede laica le loro scene sono sempre molto reali, quindi bibliche sì ma con spunti di vera realtà sono anche concrete, ricche di dettagli, sempre da interpretare tanto che spesso queste opere non sono state molto apprezzate dai loro contemporanei in questa scena di Maddox Brown c'è Gesù che lava i piedi di Pietro ed è una scena classica, la cosa strana però è il punto di vista basso è come se noi fossimo davvero presenti, addirittura in ginocchio, possiamo dare una mano? siamo lì, anche noi presenti e guardiamo quindi tutta la scena come se fossimo nella stanza e quindi vediamo bene questi particolari, vediamo molto bene poteste vedere addirittura i bicchieri di ceramica, insomma di porcellana sul tavolo vedreste che sono quasi con una scritta stampata, quindi sono anche moderni però la scena è biblica la piccola curiosità è che Ant aveva ambientato appunto questa scena lasciando Gesù Cristo nudo dalla cintola in su perché? Perché voleva dare una connotazione proprio più fisica a questo lavoro cosa sta facendo Gesù Cristo? Sta lavorando, sta facendo un lavoro umile lavando i piedi a Pietro e quindi lo lascia seminudo ma questa cosa fece scandalo e scalpore tanto che pur di vendere l'opera alla fine lo rivestì Gesù Cristo completamente nell'altra scena invece che ho scelto è questa di Cooper che è Sant'Agnese in prigione quest'opera per protagonista Sant'Agnese che era considerata appunto la martire romana e attenzione quest'opera in particolare è considerata forse l'ultima di questa corrente artistica anche perché è molto tarda, addirittura nel 1905 però quest'artista si rifà decisamente ai pre-Raffaelliti per scelta di tema ma anche per come la presenta appunto sceglie di mostrarci il momento in cui la Santa che è la martire romana dopo essere stata trascinata in strada nuda insomma come punizione per aver scelto la strada della Cassità in età giovanissima viene rinchiusa addirittura in un bordello e ovviamente prega per salvare se stessa ma anche la sua anima finalmente arriva un angelo che oltre a farle crescere i capelli a dismisura infatti la vediamo con questi capelli rossicci ma lunghissimi che possono velare le sue nudità le porge anche un vestito il vestito ovviamente è bianco ed è simbolo di purezza la ragazza comunque finisce male non facciamoci troppe illusioni verrà bruciata viva come strega ma non ancora morta verrà definitivamente uccisa con un colpo di spada alla gola e il suo cranio è ancora custodito nella chiesa a lei dedicata a Roma Sant'Agnese e Nagone nell'Ottocento la rivoluzione industriale in Europa porta a cambiamenti ma anche sviluppi tecnologici insomma la crescita dell'urbanizzazione insomma in tutto questo cambiano anche la condizione di vita della donna e anche dei bambini che avranno appunto più diritti i bambini poi avranno addirittura l'obbligo scolastico e le donne finalmente avranno qualche piccolo diritto in più ovviamente i pre-Raffaelliti sono in prima fila per testimoniare tutto questo c'è questo misterioso dipinto incompiuto di Maddox Brown che raffigura sua moglie mentre presenta a lui il figlio appena nato il titolo è prendete vostro figlio signore in teoria è anche proprio per farglielo riconoscere anche perché ricordiamoci che nell'Inghilterra vittoriana i figli nati al di fuori del matrimonio spesso non venivano riconosciuti quindi non potevano portare il cognome del padre erano illegittimi in questo caso però la moglie Emma sta presentando il figlio legale perché il primo l'aveva avuto al di fuori del matrimonio con l'artista ma poi si erano sposati e quindi in questo momento quasi con una certa soddisfazione diciamo che la moglie presenta il figlio al marito dicendogli prendete vostro figlio signore questo lo potete riconoscere senza problemi è nato all'interno del matrimonio però ci sono un paio di particolari strani perché innanzitutto è come se lo stesse presentando a noi noi siamo esattamente nel posto in cui l'artista si pone come padre per ricevere proprio in braccio e fisicamente il bambino è appena nato e questa è una donna è sua moglie è un ritratto però sembra davvero una madonna non solo una donna anche perché ha l'aureola no forse no non è l'aureola o sì chi lo sa in pratica questo specchio curvo che ha dietro la testa le fa anche da aureola ma guardandolo bene da vicino possiamo vedere riflessa su questo specchio sia il pittore con le mani tese pronto a ricevere il bambino che anche tutta la stanza arredata anche molto bene riflessa in questo specchio e questa è proprio una citazione ve lo ricordate l'opera del 400 del fiammingo Jan van Eyck che erano i coniugi erno alfini dove al centro dell'opera l'ho messa qua in piccolo al centro dell'opera c'era questo piccolo specchio tondo dove all'interno appunto si rifletteva tutta la stanza e addirittura il pittore fiammingo con un aiutante in quel caso si intravedeva riflesso in questo specchio l'opera non è finita perché ahimè il bambino morirà prima appunto del suo termine quindi l'artista abbandona poi la fine dell'opera invece nell'opera di Hughes che è amore d'aprile si vede una cosa che secondo me è anche positiva cioè è un amore sì l'amore d'aprile può andare bene? no per i raffaelliti l'amore deve essere sempre un po' contrastato e quindi in questo caso però è come se fosse la donna decidere che quest'amore non sa da fare l'ambientazione è romantica è sotto un tralcio di edere insomma avvinti come l'edere quindi è vero amore amore eterno mica troppo guardate per terra c'è anche il rosetto e ci sono tutti i petali delle rose sfiorite la donna elegantissima vestita di violetto che fa un po' pandan con i fiori di là sullo sfondo per cui in teoria ci sono tutte le cose dal posto giusto c'è anche l'amato si intravede quasi non si capisce lui ma la testa dell'amato è piegata sta forse baciando la mano di lei che però guarda altrove e quindi si capisce che quest'amore d'aprile non avrà un gran seguito il ruolo della donna stava cambiando ma molto lentamente ce lo ricorda a Deverell che nell'opera un animale domestico non si capisce bene a chi stia facendo riferimento infatti l'opera rappresenta una ragazza di profilo molto elegante con ai suoi piedi un cagnolino ma chi è l'animale domestico fra i due? basti ricordare che all'epoca vittoriana insomma scrittori filosofi teologi discutevano parecchio del rapporto fra essere umano e natura però associavano la donna alla natura e quindi in pratica la stavano paragonando all'animale in questo caso al cagnolino ma poi c'è chi fa quasi di peggio Collinson nel borsellino vuoto mette in bella mostra praticamente in vendita una donna una ragazza molto ben vestita che è proprio offerta come gli altri oggetti in vendita a questa fiera dalla parrocchia e un po' un'accusa anche al mercato matrimoniale dell'epoca vittoriana dove era normale per le ragazze anche molto giovani partecipare alle feste per essere vendute insomma in pratica al migliore offerente che poi di fatto se le sposava il miglior partito era quello appunto che poi otteneva la loro mano ma loro venivano in pratica vendute e quindi viene messa in vendita anche la ragazza insieme agli oggetti e poi invece abbiamo il solito mille che scandalizza un po' i suoi contemporanei perché nella valle del riposo il riposo eterno rappresenta un cimitero allora premessa doverosa all'epoca i cimiteri non erano considerati come i nostri cioè si seppelliscono i morti punto no nei cimiteri inglesi dell'epoca era normale passeggiare fare picnic andare a decantare poesie andare a leggere un libro insomma in santa pace sicuramente qua però mille fa qualcosa che scandalizza perché in primo piano mette questa questa fossa non è la prima volta che vediamo una fossa in primo piano ricordatevi funerale ornandi curbe che era una decina d'anni precedente anche là aveva fatto scandalo però in questo caso lo scandalo è maggiore perché la fossa la stanno scavando in quel momento e chi la scava una donna una suora una figura femminile però è una suora decisamente forzuta è quasi maschile con queste braccia nude muscolose in evidenza mentre spala e fa appunto la fossa del campo santo nell'ottocento anche gli spostamenti erano abbastanza comuni insomma ci si muoveva con più facilità venivano viaggi appunto a bordo di battelli o treni a vapore però attenzione non sempre i viaggi erano viaggi di piacere spesso non erano proprio motivati dalla crisi una crisi economica che Maddox Brown ci rappresenta nell'opera l'ultimo sguardo all'Inghilterra è un viaggio verso l'Australia è forse l'ultimo viaggio che porta lontano dalla patria è un'immigrazione che allontana addirittura un terzo della popolazione inglese nell'epoca a causa della disoccupazione ed è una piaga che aveva toccato da vicino anche i pittori parafraeliti questa è una scena tragicamente attuale se vogliamo e in questo caso c'è una sacra famiglia è un tondo non è casuale la scelta del tondo perché è un'immagine che spesso viene associata proprio alle immagini della fuga in Egitto della sacra famiglia biblica in questo caso invece è una famiglia moderna è coperta per ripararsi dal freddo si tengono per mano anche per darsi forza e si intravede anche la forma del bambino dove è nascosto è sotto il pesante scialle della madre per non prendere freddo però questi questi viaggi non sempre erano tragici appunto spesso erano anche viaggi davvero di piacere ecco quando i pre-Raffaellite rappresentano immagini all'esterno io personalmente ho qualche problema a decifrarli perché perché sono molto bravi tecnicamente sono perfetti forse troppo sono comunque abbiamo già detto ripetiamolo sono artisti che crescono con la fotografia quindi le immagini fotografiche a cui loro sono abituati mostrano tutti i particolari del paesaggio che vanno a riprodurre quindi c'è quasi una una forma di recupero del vedutismo settecentesco insomma del grand tour viaggiano anche per piacere e rappresentano luoghi visitati ma la tecnica con la quale vengono rappresentati questi luoghi meravigliosi è un po' la negazione delle teorie di Leonardo Leonardo ve lo ricordate era quello che aveva teorizzato proprio lo sguardo umano che si perde nella realtà verso l'infinito la nebbiolina che sfuma i contorni questa prospettiva aerea che rende davvero le immagini dipinte molto più simili alla realtà ecco le immagini dipinte dei pre-Raffaelliti non sono assolutamente realistiche anzi sembrano quasi a me personalmente delle immagini fatte al computer sembrano quasi le immagini dei videogiochi precise fino a chilometri di distanza se voi potesse prendere una lente di ingrandimento e guardare nell'opera di Brett veduta di Firenze da bello sguardo vedreste addirittura le tegole sui tetti fra l'altro era un'immagine abbastanza normale per l'epoca perché c'era stata una grossa comunità di inglesi che si erano trasferiti a Firenze inizialmente come turisti ma poi si erano proprio stabilizzati qua e quindi questa immagine ci mostra Firenze vista da bello sguardo completamente chiusa dalle cinte murarie con una precisione quasi fastidiosa se voi poteste guardare molto da vicino l'opera di Collins che è maggio a Regent's Park e lontano quei 4-5 chilometri potreste davvero vedere l'occhio del cigno che sta navigando praticamente nel laghetto lontanissimo ma è perfettamente a fuoco è un po' troppo le immagini della natura dei pre-Raffaelliti sono molto poco naturali nella seconda fase estetica i pre-Raffaelliti esplorano la bellezza fra arte design poesia e musica e in questo caso le donne che gravitano intorno alla cerchia dei pre-Raffaelliti fanno davvero la differenza li porteranno a rappresentare una bellezza più sensuale i ritratti sono figure della loro cerchia sono le loro modelle le loro amanti le loro mogli ma sono viste nelle vesti di personaggi letterari che però sono sempre perse nelle loro sensuali fantasticherie i pittori qua fra l'altro si allontanano un po' dal gotico e arrivano davvero al rinascimento insomma al rinascimento di Tiziano di Leonardo per pose colori postazioni proprio delle opere e questi artisti e del resto sono quelli che hanno uno stile perfetto per raffigurare le bellissime modelle di questi artisti che diventeranno proprio delle vere proprie icone di stile da seguire cioè diventeranno un po' quelle che noi adesso chiameremmo le donne immagine ed ecco per esempio Dante Gabriel Rossetti che raffigura Aurelia che è la modella Fanny Cornfort che è la sua amante nei panni di Angela da Verona è l'amata cui Fazio degli Uberti aveva dedicato una poesia tradotta poi dallo stesso Rossetti la posa riprende la ritratistica di Tiziano ma anche il colore rosso dei capelli è proprio il rosso Tiziano e Aurelia ha questo sguardo perso altrove si sta disfando la treccia di capelli e guarda appunto altrove non guarda nemmeno lo spettatore anche quando dipinge Beata Beatrix la figura principale è quella che va a connotare proprio tutta l'opera in questo caso in Beata Beatrix si ispira alla vita nuova di Dante dove il poeta racconta il proprio amore idealizzato per Beatrice amplificato anche dalla sua morte prematura ed è la stessa morte prematura che avviene anche per Elisabeth Sidal che era l'amata di Rossetti e che qua rappresenta l'amata morta di Dante e quindi perdute entrambe fra l'altro la modella morirà davvero solo due anni dopo aver sposato l'artista e qui il vedovo la ritrae quindi a memoria addirittura si narra che l'avesse fatta seppellire con una serie di sue poesie scritte proprio per lei dall'artista stesso poi avesse cambiato idea perché l'editore gli aveva fatto capire che le avrebbe pubblicate ben volentieri quindi aveva fatto anche riesumare l'amata per recuperare le poesie ma vedendola così bella ancora da morta decise appunto di ritrarla in questa opera dove vediamo appunto dietro delle figure che sono anche Dante che sono figure sfumate e qua c'è proprio lo sfumato leonardesco qui dimentichiamoci i famosi contorni netti dettagli precisissimi perché qua si gioca davvero sull'atmosfera e anche però sui particolari che non sono messi a caso infatti lei in mano tiene un fiore di papavero lei è morta per una eccessiva dose di laudano quando Rossetti decide di dipingere Monna Vanna Monna Pomona già nel titolo è una dichiarazione di intenti il riferimento è alla Mona Lisa insomma alle grandi donne dipinte nel rinascimento ed è una scelta proprio quella di andare un po' a solleticare i sensi per esempio in Monna Vanna possiamo vedere il tatto guardate le mani come stanno attorcigliando questa lunghissima collana di corallo ma anche la vista ovviamente che viene confusa quasi da questo tessuto damascato di questa manica immensa in primo piano e sicuramente potremmo quasi sentire odorare il profumo di questo mazzo di fiori che è messo nel vaso sul retro che comunque è in secondo piano ma si vede molto bene stessa cosa anche in Monna Pomona Pomona era la divinità romana dei frutti quindi in mano appunto un melograno possiamo immaginare quasi i diversi materiali con i quali viene a contatto c'è sempre il profumo e la consistenza di questa mela che tiene in mano anche quello dei fiori ma c'è anche la freddezza di queste perle di metallo che sta tenendo con l'altra mano ma c'è anche il peso dell'abito è un abito importante con molte pieghe con una stoffa pesante sicuramente ed è una scena molto privata quasi intima non si capisce se Pomona si stia vestendo o svestendo forse si sta spogliando chi lo sa comunque anche in questo caso non ci degna di uno sguardo insomma ci intravede siamo lì ma non diamo un gran fastidio William Waterhouse sceglie di rappresentare la dama di Charlotte che è l'oroina del poemetto di Tennyson la ragazza è chiusa in una torre ed è costretta a vedere la vita degli altri solo riflessa in uno specchio la maledizione ha predetto infatti che morirà quando smetterà di ricamare le scene osservate in pratica al contrario riflessa nello specchio però attenzione la donna dell'ottocento è quella che sta acquisendo nuovi diritti e quindi la donna dell'ottocento è una ribelle in cerca della propria autonomia ed ecco che abbiamo la dama di Charlotte che visto l'ancillotto riflesso nello specchio decide che questa volta bisogna sfidare la sorte esce dalla torre va nel mondo in cerca dell'amato e lo cerca su una barca portandosi dietro questo immenso ricamo questa stoffa trapuntata che rappresenta in pratica tutta la sua vita e Waterhouse rende l'atmosfera in modo quasi sospeso le rondini volano basse ci sono queste tre candele sulla barca ma due sono già spente butta male del resto la terza candela ha la fiamma accesa sì ma è molto mossa dal vento sta quasi per spegnersi diciamo pure che la morte è vicina e le pennellate con cui viene resa tutta questa scena sono già decisamente molto vicine all'impressionismo del resto le donne in questo periodo sono comunque viste un po' anche streghe ricordiamoci che comunque le sedute spiritiche andavano anche molto di moda c'era questa idea del gotico dell'horror insomma le storie di Edgar Allan Poe insomma e quindi la mostra si conclude con il cerchio magico dove sempre Waterhouse ci rappresenta così la sua donna un po' strega alta magra elegantissima al centro dell'opera con tanto di calderone quindi davvero il cruruolo della strega e disegna intanto un cerchio di fuoco attorno a sé un cerchio magico non mancano ovviamente i corvi ci sono anche le rovine di una città sullo sfondo insomma queste sedute spiritiche vengono riportate quasi in quest'opera e quindi non dobbiamo sorprenderci se ci sembra quasi di intravedere una figura spettrale nel fumo che sale perché comunque c'è sempre un po' di magia in ogni donna un po' di magia